eccoci amici bentornati con un altro video su Gap & Tech Channel oggi parliamo di un altro RDA di nuovo, di nuova novità negli ultimi mesi, che è uscito negli ultimi mesi del 2020 a 24 mm da LVAPE i nostri amici di LVAPE sto parlando dell'LBEAST LBEAST 24 mm di atomizzatore, deck postless, ormai si va solo di deck postless a quanto pare per gli RDA, bene così perché a me è una soluzione che piace tantissimo la regolazione dell'aria ha tre vie, sono addirittura 19 fuori volendo al massimo da una parte 19 dall'altra quindi una reazione della miseria come si dice nelle nostre parti interessante proposta delle torrette perché sono a 2 a 2 sfasate, non sono allineate praticamente una con l'altra e questo potrebbe portare a qualche giovamento, andiamo a vederlo, ma prima come sempre si dà eccoci in ultimo spacchettamento del nostro LBEAST di LVAPE, qui vedete subito la scatolina con il simbolo LVAPE, la script LBEAST con il bel malozzo con la Cormona, RDA ok, da questa parte abbiamo uno spaccato dell'atomizzatore, quindi drittip, top cap, cap e deck sotto abbiamo il booster di color full black, numero di serie, scratch and check da questa parte invece abbiamo l'atomizzatore chiuso, diciamo completo e dietro abbiamo i features, quindi 24 mm di diametro, con un ampio spazio per guidare e abbiamo anche il kit con il contenuto e la confezione con l'headbeaster RDA, pin BF, 0,37 ondini, 80 fuse clepton coil 2 quindi si potrà scegliere di metterla a dual coil, in modo tale che diventi circa 1,0,15, 0,16 il cotone, uno screwdriver, un cacciavite, abbiamo anche il tool per tagliare le coil, fantastico un bag di accessori, il manuale e uno sticker LBEAST, qui sono un mantimento CE made in china andiamo a togliere questa parte e ad aprire la scatolozza, eccoci qua come si presenta qui abbiamo il pacchetto con gli accessori, qui abbiamo invece il nostro atomizzatore allora le due coil, eccole qui, infuse clepton, con i due baffi di cotone, spare part con orini di ricambio due grani e il pin forato, qui per andare in BF, terzo sacchettino, fantastico ragazzi, fantastico abbiamo la brugolina, la coil tool per tagliare le gambette delle coil o a 7 o a 5 mm e abbiamo anche il cacciavitino che molto probabilmente servirà per sostituire il pin, quello installato normale a pin BF, andiamo a togliere questa parte e qui abbiamo il resto che è un adesivo molto bello, è visto, con un'indicazione addirittura del tool per tagliare le coil, fantastico e il manuale di istruzioni, molto probabilmente c'è anche in italiano sempre, addirittura indonesiano, tedesco, portoghese, polacco, arabico francese, inglese, tedesco ho già detto, quindi per l'altro ero olandese, spagnolo, attenzione, italiano, si, c'è anche l'italiano, fantastico e veniamo al nostro RDA, eccolo qui, 24 mm, nero con dei tip rosso, molto bello, qui abbiamo i fuori dell'aria, da una parte all'altra vede come sono fatti in modo tra virgolette strano nel senso che ci sono gli ultimi due che sono un po' più corti, quindi un buco di airflow, vedete, questi qua sono più alti, quindi sono più lunghi questo leggermente meno, ma vabbè, poco male, questa deve essere una cosa più che altro estetica sotto abbiamo l'attacco 510 con il pin placcato oro e il vape smaltimento CE, qui abbiamo la riscritta, è il beast, invece, con line malozzo con le cornazze, la chiera di regolazione dell'aria, vedete che gira completamente addirittura potete arrivare ad avere una sola linea di aria sottostante qua, ragazzi, che è proprio la dentro, era veramente poca, credo oppure, piano piano, ne avete due, con tutte le varie regolazioni, oppure, totali open, con tutti questi bei forellini che sono 3, 6, 9, 12, 15, 19 dalla parte, 19 dall'altra, ha airflow tutto aperto andiamo a prendere una box e ce lo montiamo sopra, così vediamo all'interno come è fatto il deck, ma prima la campana, vedete, si va a chiudere verso il drip tip, perché c'è anche tutto il pezzo di regolazione dell'aria qui c'è un gancetto che vi indicherà sul deck dove esattamente installare il cap, perfetto e qui veniamo al deck, eccolo qui, con, vedete, le torrette sfasate quindi, bene, il sacchettino da esperto, dove c'è la brugola e il jig per tagliare il decoil, è fantastico questa cosa, ragazzi, è una cosa veramente, veramente un plus in più per il vape, perché, voglio dire, con tutti questi deck post che ci sono in giro, giustamente, o almeno, si regola, prima di continuare a installare e togliere le coil, per decidere la lunghezza desiderata la brugola serve per togliere il pin, invece, per aprire le torrette, i grani, le torrette, serve il cacciaritino le torrette, attenzione che non sono forate qui, quindi la coil non va sotto questa misura della torretta visto che così rimane un po' troppo altina, le tagliamo a 5 mm ok, signori, stavo per fare una baccata grossa con una casa, meno male che ho visto il libretto delle istruzioni quindi a questo punto vi consiglio di andare a leggerlo, perché le coil vanno montate in questo modo non per così da questa parte, cioè, dove ci sono le torrette una vicino all'altra non nella parte, diciamo, più distante e ha anche un senso, diciamo, mettere le torrette sfasate perché, cosa succede? adesso vi faccio vedere bene avete di solito le coil prefatte voi le avete in questo modo quindi con le gambette non piegate una delle due non è piegata a 90 gradi questa soluzione vi da la possibilità, ovviamente, di non piegarle affatto nel senso, inserirle comodamente così come vi arrivano adesso le andiamo a regolare un attimino ed è anche corretta questa installazione perché se le mettete in questo modo il cotone dove lo mettete da questa parte non c'è spazio invece così avete tutto lo spazio del mondo per inserire il cotone ok andiamo a rodare un attimino le nostre coil dual fused io l'ho messa un po' aggressive eh, sono circa 0-10 queste anzi, un po' così neanche meno ma perché volevo proprio testare in fondo questo RDA perché, nevo di la verità questa soluzione molto ariosa mi piace molto per le coil diciamo molto spinte perché teoria dovrebbe scaldare un po' meno tutto quanto vediamo intanto di cotone con i baffi classici quindi per gli RDA normali tra virgolette se riusciamo a farci restare vi dovete fare calcolare che il cotone deve toccare il deck qua sotto quindi lasciatelo anche leggermente più lungo ok l'abbiamo messo per regolarvi la lunghezza prendete più o meno la base del deck all'esterno all'incirca andiamo lo più smooth possibile andiamo a inserirlo ragazzi inserimenti ovviamente in questo caso essendo così grande il deck lo spazio per cotone ce n'è in abbondanza ma non mettetene mai tantissimo perché non ha senso eh, ve lo dico perché se no poi fa difficoltà comunque il liquido riguardo sulle colpe troppo cotone poi non vi regolate bene su quando drippare e quando sgoncare eh però vuol dire facilissimo facilissimo l'installazione ragazzi veramente complimenti adesso andiamo a bagnare il cotone e con lo scratch berries vapor up meno cotone mettete meno tempo meno liquido utilizzate meno tempo dovete utilizzare per attivare il tutto ovviamente perfetto va benissimo adesso chiudiamo il nostro cap apriamo completamente l'aria e noi siamo pronti per partire con il nostro Hell Beast di Hell Vape quindi torniamo su e facciamo le nostre valutazioni e considerazioni allora eccoci tornati avete visto soluzione interessante quella delle torrette sfasate perché vi da la possibilità di non piegare nessuna delle due leg delle coil per mettere in linea le due leg perché tanto avete le torrette che sono già sfasate come le leg delle coil originali per cui non avete nessun tipo di problema quindi facilità anche l'installazione adesso facciamoci qualche bella svapatona io sono qua con delle coil da 0075 che abbastanza spinte ma l'ho voluta mettere apposta per provarlo diciamo all'estremo questo RDA e poi diamo le strellozze allora partiamo subito costruzione costruzione gli darei quattro stelle perché è vero che è fatto bene le torrette sono intelligentissima questa cosa di sfasarle per cui in modo tale che voi prendete la coil così com'è la inserite e entra perfettamente l'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo ma sono le sottigliezze tra virgolette è la distanza che poi c'è tra le coil installate e il fondo del deck per cui il cotone che dovete mettere è un po' più lungo di diciamo in qualsiasi altro RDA normale tra virgolette da 24 mm questo cosa comporta? comporta il fatto che bisogna stare molto attenti a non metterne né troppo tanto né troppo poco come si dice perché se ne mettete poco non arriva a toccare il deck magari in alcune circostanze e quindi non agevola il liquido verso le coil se le mettete troppo rischiate che poi non vi accorgete quanto ce n'è tra virgolette all'interno e magari inadvertitamente siete abituati a sconcare o a drippare dopo 3 o 4 svappate invece magari potete farlo dopo 6 o 7 quindi andrete a rischiare di riempire troppo di liquido il deck ma una volta preso la mano queste sono sottigliezze facile da usare 5 stelle perché ragazzi veramente veramente da rigenerare in una maniera cioè lo fate non dico ad occhi chiusi perché non è mai bello fare cose ad occhi chiusi soprattutto quando parliamo di queste device però è veramente semplice cioè è veramente molto molto semplice e tra l'altro questo RDA secondo me è indicato per chi sta iniziando a passare diciamo da coil non rigenerabili a coil rigenerabili a coil rigenerabili per fare cloud per fare anche un flavor chasing perché qua comunque ci stanno anche coil magari non complesse con le regolazioni dell'area che hanno studiato per questo RDA potete tranquillamente anche andare in flavor praticità sì 5 stelle perché anche qui è un RDA che tra l'altro non scalda neanche tanto adesso io sono a 100 Watt signori sono a 100 Watt ovvio se ci sta attaccato tra 4 minuti si scalda anche lui ma svapando regolarmente in cloud chasing a 100 Watt lui si scalda il giusto non è esagerato per cui per quello che io ho messo delle cose basse perché volevo testare anche la diciamo resistenza al calore di della parte esterna e devo dire che è molto soddisfacente prestazioni beh le prestazioni darei un 4 stelle perché comunque detto tutto questo l'aroma è discreto non è male assolutamente non è malaccio diciamo che non è un aroma da atomizzatori tra virgolette più elevati come se costo con la costruzione tutto quanto ovviamente ma questo ovviamente cioè lo dovete mettere in preventivo prima di acquistarlo ma vi ripeto per chi vuole iniziare a andare in procesi con coin rigenerabili questo è veramente un atomizzatore da tenere in considerazione qualità prezzo 5 stelle a destra vostro ragazzi questo qua viene più o meno mediamente sui 30 euro e voi con 30 euro vi portate a casa un RDA da 24 mm che va molto bene in flavor molto bene in cloud con coil che avete visto è una semplicità estrema da installare cioè più di così cosa dovete fare ragazzi complimenti al vape per il costo qualità prezzo assoluto veramente assoluto ed è un bel giocattolino devo dire la verità molto elegante anche questa colorazione nera opaca bellissimo gli airflow si funzionano bene nel senso che la regolazione è bella precisa perché passate da 3 file a 2 di fori in tranquillità i due ring sono fatti bene ragazzi non c'è niente che non va a un costo abbiamo detto mediamente sui 30 euro quindi quello è tutto qua fatemi sapere cosa ne pensate di questo Hellbeast di Hellvape se l'avete mai visto provato o testato anche voi e noi ci vediamo con la supermiglia sopatone al prossimo video e io vi saluto ciao ciao